Allora, prossimo petto, siamo nel 1965 e la canzone è What the world needs, now it's love Quello di cui il mondo ha bisogno adesso è di amore E ce la canta Cristina Bianchi Che, quanto è vincitrice poco tempo fa del concorso Una Voce per Sesto Per cui non è che l'abbiamo presa in una pizzerina Grazie La canzone di Barba Caracca Guarda, guarda Fessina Bianchi Buon appetito! Sì 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 Auguri alla mamma di Cristina!